Il Piemonte si presenta a Palazzo Brancaccio a Roma con Piemonte Land, una grande iniziativa per presentare il prodotto migliore del Piemonte, il vino, ma senza dimenticare tutti gli altri che sono espressione delle risorse umane e anche del territorio. Siamo in compagnia dell'assessore regionale all'agricoltura Giorgio Ferrero al quale chiediamo come nasce questa avventura con Piemonte Land. Intanto Piemonte Land è un'aggregazione di quasi tutti i consorsi vitivinicoli delle denominazioni piemontesi. È un'esperienza unica che da qualche anno sta portando avanti in modo unitario il valore delle denominazioni di origine dei vini del Piemonte e insieme a questi abbiamo voluto aggiungere quelle che sono diciamo le nostre produzioni più tipiche del territorio. Abbiamo le diopi dei formaggi che vanno dal gorgonzola al bra alla toma, i formaggi di Roccaverano, di Murazzano e poi abbiamo la carne dei bovini piemontesi, abbiamo alcuni salumi vecchi e nuovi come il crudo di cuneo o il nuovo salame IGP del Piemonte insomma insieme alla nocciola e così abbiamo voluto fare un po' sistema e far conoscere anche fuori dal Piemonte là dove non le conoscono ancora queste diciamo produzioni alimentari. Lei ha parlato molto bene di sistema, è la prima volta però che veramente il Piemonte si presenta con un brand che raccoglie tantissime eccellenze quindi una totalità però senza dimenticare le varie identità. Sì è vero diciamo che una caratteristica del Piemonte è sempre stata quella di avere figure diciamo che corrono in autonomia che hanno anche fatto la fortuna delle imprese agricole e agroalimentari del Piemonte però in questo mondo globalizzato c'è bisogno invece di stare insieme cioè di mettere insieme alle forze perché i competitor sono molto agguerriti e quindi chi ha dietro di sé soltanto la terra d'origine, di produzione, ha una storia importante non può con le condizioni che oggi abbiamo sul mercato globale viaggiare da solo. Questa volta sembra che la sinergia con l'istituzione abbia funzionato davvero. Qual è stato diciamo l'elemento aggiunto per cui questa volta è andata bene? Insomma il merito a chi va? Il merito va sempre agli imprenditori che lavorano tutti i giorni e nonostante tutto riescono a portare al successo le produzioni delle loro terre. Noi abbiamo cercato diciamo con bandi di sostenere alcune uscite in giro per l'Europa anche in giro per il mondo e cerchiamo di favorire le aggregazioni e questo è stato un po' la novità. Noi eravamo abituati all'anteprima vendemmia a farcela un po' in casa. In Piemonte abbiamo detto ma forse noi la conosciamo già è bene che la facciamo conoscere anche ad altri. Così è nato l'appuntamento romano. Chiediamo dicendo che la vendemmia comunque è andata bene sia a livello quantitativo che qualitativo perché il valore aggiunto dei vini piemontesi è quello di mantenere costante uno standard di qualità elevato. Sì abbiamo avuto ormai una consuetudine di grandi vendemmie perché il cambiamento climatico ha portato nelle nostre regioni diciamo dei benefici in termini di gradazioni e di qualità del prodotto. Abbiamo un trend continuo in cui si diminuisce di qualcosa il quantitativo di produzione ma aumenta percentualmente di più il valore della produzione e soprattutto il valore dell'export. Noi ogni anno aumentiamo il valore dell'esportazione vuol dire che i nostri vini sono apprezzati in giro per il mondo.